Voglio condividere con te, quello che è rimasto tra di noi, non portarti indietro adesso, nei tuoi occhi il mio riflesso, voglio condividere con te. Voglio condividere con te. Come c'è quella parola varietà, varietà di musica, buon ascolto! Stella di giorno, frutto d'inverno, io canterò per te. Se ti senti un aliante che cade, strade d'aria avrai da me. Segretamente, sopra la gente, io canterò per te. Per fermarti nel viso il sorriso che ora c'è. E canterò per te. Forse hai bisogno solo di un sogno, ma io canterò per te. Tu sei la bruciante fantasia, la corrente che porta via, confusione in mente, folla e follia. Tu sei fra la gente che non è, e io canterò per te in faccia al mondo. Viola di Marte, sempre più forte, io canterò per te. Come un'onda che viaggia alla spiaggia, le mie braccia avrai da me. Segretamente, sopra la gente, io canterò per te. Per fermarti nel viso il sorriso che ora c'è. E canterò per te. E canterò per te. Forse hai bisogno solo di un sogno, ma io canterò per te. Tu sei la bruciante fantasia, la corrente che porta via, confusione in mente, folla e follia. Tu sei fra la gente che non è, e io canterò per te in faccia al mondo. Non si può sbagliare, sei l'altra parte del sole, e io canterò per te. Amici, varietà di musica. E musica, la nostra vita, varietà. Allora, non si può sempre dire tutto nella vita, e neanche in questi giorni vogliamo dire tutto. Per cui, buona ascolta e buona musica! Amici, sono molto felice di invitarvi al nostro pranzo di primavera. Il pranzo dell'orchestra Luca Bergamini. Logicamente, in questo pranzo ci sarà tutta l'orchestra completo, dove vi rialzeremo un pomeriggio pieno d'allegria, di canzoni, e staremo insieme. Mangeremo tantissimo, ci dovremo divertire fino al pomeriggio tardi. Vi aspetto tutti quanti il 14 aprile al Grand Hotel Tercorti di Forlì. Grazie. 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 non so cosa mettono, qualcosa si mette sempre. Amici vi saluto e vi auguro una buona serata, ma soprattutto vi auguro buona serata con i programmi di Teleromagna e sicuramente fra un po' arriva il telegiornale. Buona serata a tutti! 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 Buona serata a tutti!